amici e benvenuti in questo nuovo video dove andrò ad analizzare alcuni commenti di alcuni leoni da tastiera che grazie a loro appunto posso fare video quindi posso creare contenuti come dissi nell'intervista appunto di story time creo contenuti grazie ai leoni da tastiera leone da tastiera continuate continuate a scrivere questi commenti comunque cominciamo a partire dal primo short allora raga quando un cliente entrerà nel vostro bar e chiederà un latte macchiato semplicemente chiaro o scuro voi non dovrete fare altro che preparare un espresso a parte di modo che il cliente si metta il quantitativo ideale bene cosa spiego in questo video spiego come fare il latte macchiato a regola d'arte ma cominciamo a vedere il primo commento ora voi lo leggerete qua e io invece ce l'ho qua sotto scritto sul foglio uno mi scrive lo sappiamo grazie ma lo sappiamo grazie de che ma de che domani vado in 10 bar scommettiamo che su 10 bar 8 sbagliano a fare il latte macchiato perché il cliente se lo chiede chiaro se lo chiede scuro ok deve essere lui lui stesso a macchiarselo con un espresso a parte ok non il barista perché il cliente va coccolato il cliente va stupito tutte le volte che entra nel locale tutto qua non è che uno scrive lo sappiamo grazie no sappiamo grazie niente passiamo al secondo commento allora il secondo commento è bellissimo dice non sono d'accordo a nessuna specifica nel mio locale il latte macchiato chiaro o chiarissimo ha dentro un caffè ristretto molto ristretto poiché probabilmente il cliente desidera non percepire il gusto del caffè pieno e nemmeno la caffeina che deriva dai 20 ai 22 secondi di estrazione va da sé il contrario a parte che qua c'è te si capisce niente di quello che scrive ma comunque tu puoi anche non essere d'accordo ma il latte macchiato va fatto in questa maniera il latte macchiato va eseguito in questo modo il caffè espresso va sempre dato al cliente in un brico a parte di modo che il cliente possa mettersi il quantitativo ideale punto e non dico altro questo va fatto in questa maniera e poi ha scritto anche una cavolata cioè scrive lui la caffeina che deriva dai 20 22 secondi di estrazione innanzitutto l'estrazione quella ideale per un espresso deve essere di 25 secondi la percolazione per un espresso italiano e comunque tornando indietro il latte macchiato va fatto in questo modo e poi scusate ma che cosa c'è di bello entrare in un locale chiedere un latte macchiato oscuro esempio vedere il barista che ti monta il latte fatto bene te lo mette in un bicchiere e a parte ti dà un espresso in un bricchetto dove tu utente finale decidi il quantitativo di caffè da metterti all'interno del bicchiere del latte ma è bello è scenografico e poi il cliente si sente coccolato è una cosa carina raga io in tanti bar dove sono andato alla mattina a chiedere il latte macchiato quasi nessuno lo fa poi ad esempio dove lavoro io le mie titolari tempo fa quando appunto aprirono il locale comprarono dei mini bricchi dei bricchetti piccolini ma fighi bellissimi da vedere insomma infatti noi utilizziamo sempre quelli per fare il latte macchiato perciò leoni da tastiera cioè andare cioè cosa cosa vi devo dire di più più di questo che cosa vi devo dire bene amici questo è tutto vi ringrazio per l'ascolto vi ricordo di iscrivervi al canale se non avete ancora fatto per nuovi contenuti in arrivo e soprattutto per questo nuovo format che ha preso appunto vita oggi sperando vi sia piaciuto commentate qua sotto appunto che cosa ne pensate di questo video e soprattutto leoni da tastiera commentate anche voi dai così almeno posso creare altri contenuti perciò ciao a tutti dal vostro Lucio Messina e ad un prossimo video